mi sentite? Mi sa di no. Si sente? Si? Ottimo. Buonasera a tutte e tutti. Allora dunque a due anni dall'inizio della pandemia con la dichiarazione della fine dell'emergenza pandemica credo che sia doveroso fare bilanci. Con una mortalità per tutte le cause del 16% in più nel 2020 rispetto alla media del 2015-2019 e del 10% in più nel 2021 parlare di successo è davvero difficile. Ricordiamo che il contributo più rilevante all'eccesso di mortalità anche nel 2021 è dovuto all'incremento delle morte degli over 80 che spiega il 72% dell'eccesso di mortalità complessivo dati ISTAT. È stato stimato inoltre che i morti registrati nell'RSA rappresentano il 40% circa di tutti i morti covid nei paesi occidentali. Ci tengo infine a ricordare che la covid-19 è rimasta la seconda causa di morte dopo i tumori anche durante la prima ondata eppure sono stati rimandati screening e trattamenti oncologici. Questi dati mostrano che era chiaro fin dai primi mesi che avevamo a che fare con un virus che pone un enorme rischio di mortalità per la popolazione anziana, le persone con condizioni di salute cronica, mentre per la maggior parte della popolazione il rischio di malattia grave è molto molto basso. Raramente si è visto in epidemiologia un gradiente di rischio così ampio e dipendente dall'età. Ora è sempre più evidente che la strategia migliore sarebbe stata la protezione mirata dei vulnerabili nell'orizzonte della prevenzione personalizzata, cosa che molti scienziati hanno sostenuto fin dall'inizio piuttosto che quella del rischio zero per tutti. Nell'ultimo anno poi questa strategia sarebbe stata ancora più ragionevole data la disponibilità di un vaccino che nasce da studi che avevano come obiettivo primario quello di ridurre il rischio di ospedalizzazione di morte e non di ridurre i contagi e a questo livello gli studi hanno confermato la loro efficacia. Si è scelto invece fin dall'inizio la via più facile e più autoritaria. Imposizioni e ricatti uguali per tutti e la più dannosa in termini economici, sociali, politici, psicologici e anche sanitari. Lockdown, coprifuoco, didattica a distanza, obblighi dall'inizio della pandemia. Ora queste cose qua in realtà venivano dette da fior di ricercatori incluso Donato Greco che è un grande epidemiologo che appena è uscito dal CTS come sappiamo che è stato chiuso ed è stato ripreso da tutti i giornali perché ha detto che i lockdown e le misure draconiane modello italiano sono stati inutili e i costi sociali certi. Ma Donato Greco che tra l'altro è un amico queste cose le diceva anche prima. Noi abbiamo discusso a lungo di queste cose durante la prima e la seconda ondata prima che entrasse nel CTS. Allora uno dei CV come lui con un'esperienza enorme era stato molto critico ma non veniva considerato dai media mainstream e queste cose le diceva. Anzi era stato anche attaccato come lo sono stata attaccata io fin dal primo momento peraltro. Anche peraltro dal mondo di sinistra da cui vengo. Anch'io sono una combattente come dice Orsini ma io ammetto di aver avuto paura. Ho passato svariate notti in bianco e non certo per il virus ma per un clima di intimidazione e minacce veramente molto pesante soprattutto quando abbiamo vinto i ricorsi al TAR per fare riaprire le scuole. Ho avuto paura e non sono l'unica ad aver avuto paura. Ricordo solo che il governo svedese ha dovuto intervenire per rafforzare le leggi sulla libertà accademica dopo che un importante studioso ha annunciato, aveva fatto una pubblicazione tra l'altro estremamente importante sulla mortalità da covid nei bambini dimostrando che era rarissima e ha annunciato che stava lasciando il suo lavoro sulla covid-19 a causa della violenza con cui era stato attaccato. Quindi anch'io ho avuto paura come lui come tanti altri ricercatori anche se ho continuato giorno dopo giorno come dico io goccia goccia forte del mio studio matto e disperatissimo e della determinazione nel ribadire che le decisioni si basino sempre su evidenze scientifiche solide a costo di perdere consenso. E continuo a farlo perché queste misure continuano ancora adesso nonostante sia stata dichiarata la fine della pandemia, dell'emergenza. A scuola si continua fino a giugno con mascherine, distanziamento, dad a richiesta, anzi ora la chiamano DID, didattica digitale integrata. Quindi nonostante svariate pubblicazioni tra cui la nostra abbiano mostrato che a scuola i contagi accadono raramente, non ci sono evidenze scientifiche che l'apertura delle scuole abbia aumentato i contagi. Purtroppo nemmeno con la fine dello stato di emergenza è passato il messaggio che queste misure hanno anche effetti collaterali di non poco conto. Cito solo uno studio, uno dei più recenti, su 10.000 soggetti, ha mostrato che chi ha praticato il distanziamento fisico ha sofferto di più di sintomi depressivi e ansia, aumentati di due o tre volte rispetto al periodo pre-pandemico, significativamente maggiori nei giovani e nelle donne. È uscito in questi giorni uno studio nazionale del Center for Disease of Control, il famoso CDC, che ha mostrato un aumento rispetto al passato di depressione grave negli adolescenti, fino al 44% in più rispetto al passato, tassi di azioni suicidaria che raggiungono il 20% negli adolescenti. Recentemente una pubblicazione sull'Italian Journal of Pediatrics, sostenuta dalla Società Italiana di Pediatria, ha dichiarato che nella stragrande maggioranza dei casi dei cosiddetti long covid pediatrici, non sono in realtà nient'altro che problemi di salute mentale, legate alle condizioni di stress che i giovani hanno dovuto subire durante la pandemia. Lo scrivono loro, è questo, e dichiarano che un ruolo importante è stato giocato proprio dalle misure messe in atto per ridurre la circolazione virale, che hanno compromesso lo stile di vita e la salute mentale dei minori. Parole loro. D'altronde la chiusura delle scuole è stata la prima e spesso l'unica misura adottata. L'Italia ha anche vinto la triste gara di chi ha tenuto le scuole chiuse più a lungo, soprattutto al sud. È stata scelta fin dall'inizio la logica dell'epidemiologia difensiva del rischio zero, ignorando sistematicamente che il principio di precauzione richiede di tenere in conto che gli interventi di prevenzione non sono innocui, pertanto vanno soppesati e valutati in prospettiva temporale e funzionale anche per i contraccolpi che provocheranno. Ricordo che anche le evidenze scientifiche riguardo le mascherine, per esempio, di cui si parla poco, all'aperto sono molto scarse, se non nulle. Studi randomizzati seri, quindi hanno fallito nel dimostrare una riduzione di rischio del contagio. Un enorme studio adesso, condotto bene dal punto di vista metodologico, ha mostrato che il loro uso a scuola è assolutamente inefficace nei bambini. Altra cosa ovviamente sono le FFP2 negli ospedali, ma insomma queste cose non bisognerebbe neanche dirle. D'altronde ricordiamo che sul Corriere della Sera Alberto Villani, appunto membro del CTS, ha chiarito che queste imposizioni, le mascherine appunto, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto è un richiamo, un simbolo. Non importa se scientificamente ha senso oppure no, parole sue. La promessa implicita era che se i cittadini si fossero sacrificati abbastanza ci saremmo potuti liberare di questa malattia per sempre. Due settimane per affiattire la curva, dicevano, per evitare il sovrappollamento del sistema ospedaliero, poi salvare la Pasqua, il Natale. Le due settimane sono diventate mesi, poi anni. È ovvio che questo tipo di comunicazione e di strategia di salute pubblica fa perdere credibilità sia alla scienza che alla politica. È chiaro che il SARS-CoV-2 non soddisfa nessuno dei criteri di un virus eradicabile. Nel migliore dei casi le misure di contenimento adottate hanno solo rimandato l'inevitabile. Si è visto in Australia, in Nuova Zelanda, che hanno seguito la strategia Covid-0. Anche l'Italia ha avuto per buona parte dell'ultimo anno e mezzo il primato delle restrizioni più dure in Europa, secondo lo Stringency Index, che è stato compilato dell'Università di Oxford. Nonostante questo, abbiamo, permane in realtà a livelli più alti, nonostante appunto abbiamo avuto uno dei record maggiori di decessi. Peraltro le cause dei decessi non sono per nulla scontate. Proprio in questi giorni, Carl Ennegan, che è un professore di evidence-based medicine di Oxford, un epidemiologo eccezionale con cui collaboro, si è visto bloccare l'account Twitter per avere rilanciato un articolo Daily Telegraph, uno dei quotidiani più letti in Gran Bretagna, in cui spiegava che appunto il gruppo di Oxford ha mostrato che in larga parte la causa di morte è stata valutata molto superficialmente e non si sa il numero reale di decessi attribuibili alla Covid-19, dato peraltro confermato anche in un recente articolo su The Lancet. Nelle case di cura i decessi sono stati certificati dai medici che hanno effettuato l'ispezione attraverso una videochiamata e ciò ovviamente è stato consentito grazie alle linee guida di emergenza introdotte ad aprile 2020. Quindi fin dall'inizio della pandemia gli scienziati che hanno cercato di portare senso critico rispetto alla gestione della pandemia, hanno cercato di riflettere sulle ricadute delle misure per le differenti classi sociali sono stati attaccati sia sui media mainstream che sui social con modalità inquietanti. Ora che la guerra in Ucraina ha sostituito la guerra al virus si ripetono le medesime modalità di censura e di denigrazione. Nella versione autoritaria e paternalista della gestione della salute pubblica continuare a farsi domande e porsi dubbi è tradimento e diserzione. Per concludere ricordo una notizia apparsa nelle scorse ore che si inserisce a mio parere perfettamente nello scenario distopico di questi ultimi due anni e anzi nella naturale prosecuzione. A Bologna è stata proposta una card di cittadinanza con punti digitali per il cittadino virtuoso, progetto appoggiato anche dal sindaco. Il cittadino guadagna punti se differenze e rifiuti, se usa i mezzi pubblici, se gestisce bene l'energia e punti daranno diritto a premi. La card di cittadinanza con punti digitali è evidentemente un altro spostamento della direzione in cui stiamo andando. Un mondo in cui la soluzione tecnologica diventa la soluzione per eccellenza di ogni problema spacciata per oggettiva, mentre di fatto si ignorano dati di realtà ed evidenze scientifiche e i punti digitali definiscono il buon senso civico. Grazie alla professoressa Sara Gandini.